Due agenti della polizia locale sono stati aggrediti da un uomo affetto da gravi problemi mentali che stava dando in escandescenza. I due agenti di Ponte Cagnano-Faiano, nonostante tutto, sono riusciti a riportare alla calma la situazione e a condurre l'uomo originario di Monte Corvina, Rovella, presso l'ospedale di San Giovanni di Diorruggi d'Aragona. Dieci giorni di prognosi per i due feriti che hanno riportato rispettivamente una lesione alla bocca ed una lustrazione al braccio. Fiero di loro è stato il commento del comandante Franco Lancetta, hanno evitato qualcosa di pericoloso per la nostra comunità.